Il simbolo è semplicissimo, si deve far barrare il simbolo di Forza Italia. Qui un amico, lo ringraziamo per essere venuto apposito a cambiato, il 7 e il 2 nel 27%, con l'abilità di arrivare alla vittoria, un po' di più faremo molte cose, con la tax flag, sviluppo dell'economia e qui in tre facce, sempre il tutto che si parla. Mi tocca il culo. Grazie.